Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa settimana ha incontrato le istituzioni europee. A Michel ha ribadito la necessità di non penalizzare le politiche di coesione, mentre con la Presidente della Commissione von der Leyen rilevante è stato il confronto sulla riforma del patto di stabilità e crescita, di cui Conte sottolinea l'importanza della consultazione pubblica. Come sapete sia la Commissione sia il mio governo punta molto su Green New Deal, su investimenti verdi che favoriscono la transizione energetica. È stato uno dei temi più importanti e anche abbiamo discusso della possibilità di rivedere il patto di stabilità e crescita. A me piacerebbe rivederlo addirittura invertendo i poli concettuali, renderlo patto di crescita e di stabilità. Cioè che punti innanzitutto alla crescita, ma ovviamente salvaguardando la stabilità. Dobbiamo lavorare, lavoreremo, ragionalmente verrà lanciata questa consultazione pubblica, quindi tutti quanti potremo dare un contributo e il nostro contributo sarà sicuramente nella direzione di facilitare investimenti verdi. Anche perché questo dovrà essere consentito, lo anticipo e l'ho detto molto chiaramente, a tutti e 27 Paesi. Se questo non avvenisse, paradossalmente, immaginate quello che succederà da qui a qualche anno. Si creerà un divario ancora maggiore tra Paesi che hanno più facilmente accesso, avranno realizzato maggiore transizione energetica, industriale e altri invece che sono rimasti dietro. Invece dobbiamo mettere tutti nella condizione di poter avere delle facilitazioni per gli investimenti verdi. Anche il commissario e all'economia Paolo Gentiloni e il vicepresidente della commissione Valdez Dombrowski si sono incontrati per discutere su come ha funzionato il patto di stabilità negli ultimi dieci anni. Gentiloni ha dichiarato che ci sono stati buoni risultati nella riduzione del deficit e si sono riscontrati coordinamenti migliori nelle politiche di bilancio. Nel terzo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo dell'area dell'euro è aumentato dello 0,3% sul periodo precedente dopo lo 0,2% del secondo trimestre, lo spiega la Banca Centrale Europea nel bollettino economico. La BCE parla di perdurante debolezza del commercio internazionale in un contesto di persistenti incertezze a livello mondiale che ha colpito in particolare il settore manifatturiero dell'area dell'euro e ha frenato la crescita degli investimenti. Il settore dei servizi e quello delle costruzioni continuano a mostrare una maggiore capacità di tenuta. Nel 2018 il consumo di energia nell'Unione Europea a 27 è rimasto stabile. L'UE ha l'obiettivo di ridurre tale consumo del 20% entro il 2020. Quindi nel 2018 il consumo di energia primaria nell'Unione Europea è stato superiore del 4,9% rispetto a questo obiettivo e del 22% rispetto al 2030. Lo rende noto Eurostat. Dal 1990, il primo anno per il quale sono disponibili i dati, il consumo di energia primaria fluttato notevolmente con un picco nel 2006 e uno dei livelli più bassi raggiunti nel 2014. Il consumo di energia primaria misura la domanda totale di energia domestica. Nel mese di dicembre 2019 le vendite al dettaglio nell'area euro hanno registrato un calo dell'1,6% rispetto al mese precedente. Su base annua l'incremento è stato dell'1,8%. Lo rende noto Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Su base mensile la flessione è stata dell'1,6% per i prodotti non alimentari e dell'1,4% per alimenti, bevande e tabacco e carburanti per autotrazione. Il calo più marcato si registra in Germania, con un meno 3,3%, Slovenia meno 2,8% e Finlandia meno 2,3%. Segno più invece per Irlanda, Malta e Romania.